Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Ciao a tutti, come sempre prima di iniziare un saluto ai nuovi patrons che ha raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Sono 5, ringraziamo Antonio N, Raffaele G, Franco S, Marco T e Mirko G. Grazie per il vostro supporto, sempre molto apprezzato. Veniamo al video di questa sera. In passato avevo fatto una puntata sulla realizzazione di un prototipo di una bobina di Tesla planare, cioè sviluppata su un piano appunto, con l'idea di realizzare un circuito stampato. Avevamo visto i limiti di questo circuito, col fatto che l'avevo avvolta a mano, quindi in maniera abbastanza imprecisa e con non tante spire, un campo elettrico molto debole, non in grado di illuminare neanche un LED. Quindi, prima di proseguire con la realizzazione del circuito stampato, mi sono procurato in rete un circuito che si trova facilmente, che fa proprio questa cosa, con un centinaio di spire, direi, dopo andremo a vederlo nel dettaglio, l'idea di studiarlo e di modificarlo per le nostre esigenze. E quindi, buona visione! Questo circuito stampato ha dimensioni 10x10, è realizzato su due strati e segue un po' l'idea che avevamo visto nel video prima parte di questa bobina planare. In pratica, non so se lo vedete qua, abbiamo poche spire in rame che costituiscono il primario e dall'altra parte possiamo notare con più attenzione queste spire invece che sono molte di più e costituiscono il secondario. Possiamo fare un ingrandimento per vedere bene le spire di secondario. Eccole con l'aiuto della luce, si vedono qui in evidenza, sembrano essere state generate bene e so che questo Gerber è stato prodotto con Eagle e è stato utilizzato uno script per fare appunto le piste circolari a forma di spirale. Vediamo le caratteristiche del secondario. Con un multimetro in misura resistenza, quindi in continua, andiamo a vedere la resistenza dell'avvolgimento secondario, quindi tocco l'inizio avvolgimento qua, il fine, questo punto, 83.3 Ohm. Con un induttanzimetro, l'induttanza misurata alla frequenza di 15 KHz è di 759.2 µH. Sul circuito stampato è indicato il nome PCB Tesla Coil. Abbiamo veramente pochissimi componenti perché un transistor, un LED e probabilmente un piccolo condensatore e poi qualche connessione da fare per collegare le bobine. L'idea è quella di alimentarlo con una bassa tensione e creare un campo elettrico in grado di poter illuminare delle piccole giunzioni a LED o lampadine o piccoli tubi, semplicemente con il campo elettrico. Probabilmente potrà fare anche qualche piccolo arco, molto molto piccolo, perché comunque 160 spire sono poche, e come avevamo visto in parte 1, la frequenza di oscillazione è nel campo dei MHz, potrebbe essere tra i 2 e i 4 MHz. Ovviamente la cosa critica di questi circuiti stampati è l'accordo tra l'induttanza e la capacità. La capacità è creata dalle capacità parassite che ci sono tra spira e spira. Inoltre giocano un ruolo fondamentale anche queste aree ai lati, perché anche esse concorrono alla formazione della capacità. La cosa importante infatti è che la frequenza sia ben definita in modo che così poi il circuito stampato possa oscillare alla sua frequenza naturale. Qui ho riportato lo schema elettrico che avevamo visto nel video parte 1. Il principio è sempre lo stesso. A parte questa zona del MOSFET e il diodo che servivano nel circuito che avevamo studiato per la modulazione musicale, il circuito si compone di un transistor BJT che oscilla grazie alla retroazione formata da questo avvolgimento di feedback. Quindi lo schema è molto simile. Andremo quindi a montare i componenti che tra l'altro in rete sono indicati, per esempio per il transistor è indicato un FTZ851 che è un transistor che porta 6-8 ampere sul collettore, ma soprattutto ha un parametro FT, quindi transition frequency, di 3 MHz. Il parametro FT ricordiamo che è il prodotto guadagno per banda, ossia quando il guadagno vale 1 la frequenza sarà 3 MHz. Chi ha realizzato il PCB ha utilizzato diversi transistor in prova, tra cui il BD243 e il Bull45. Tutti i transistor abbastanza veloci. Io utilizzerò quello che abbiamo usato in parte 1, che è un FJP13009 che ha appunto un parametro FT di 4 MHz, quindi molto veloce e sopporta anche tensioni più elevate fra collettore emettitore e collettore base. Questo è il sito del progetto tradotto dal russo, quindi potrebbe non essere perfetta la traduzione. Si vede che appunto vengono accesi i led con la PCB in funzione, resistenza da 82K, poi ci sono diversi commenti sulle prove eseguite. Ecco questo è importante perché abbiamo il Gerber, però è una versione diversa. Vedete che questa è una versione a 240 spiro, invece la nostra è a 160, ma il concetto è lo stesso. Abbiamo transistor, alimentazione, questo è lo schema, lo schema che viene pubblicato e infatti come vedete abbiamo il BJT che oscilla con la retroazione data dalla bobina stessa. Il led si accende quando la bobina è in funzione, infatti si polarizza solo se l'anodo è positivo rispetto al catodo e questo avviene quando la retroazione interviene perché questo nodo viene portato negativo e quindi il led si accende, il transistor prende alimentazione dall'ingresso tramite questa 82K e poi qua sono indicati i punti di retroazione della bobina. Poi abbiamo un condensatore da un micro per stabilizzare la tensione in ingresso. Nell'immagine qua è mostrato che non è stato montato il condensatore da un micro e praticamente abbiamo solo led, resistenza 82K e transistor e connettore di ingresso. Ecco qua i componenti e andiamo subito a saldarli. Ecco montati i componenti, lato componenti, lato saldature non bisogna dimenticarsi di fare questo passo con un reoforo. Io ho usato per esempio quello della resistenza da 82K e questo è necessario perché essendo un due strati non ovviamente non sono riusciti a fare l'attraversamento della bobina di primario dall'alimentazione e quindi bisogna fare questo passo esterno. Qua c'è una pad a saldare, lì il reoforo molto semplice. I fori per il connettore di ingresso sono spropositati perché probabilmente ci si possono poi attaccare anche dei cavi a sezione più grande se ad esempio l'alimentazione non è vicino. Nel caso usiate un connettore lasciate abbondante stagno almeno a contatto della parte di questa corona con il pin. Ho montato quattro torrette in modo che così appoggia e per questo tipo di circuiti è importante perché lavorando a dei megahertz e sfruttando le capacità parassita si possono avere delle differenze se elevato oppure direttamente appoggiato. Alimentiamo il circuito con un alimentatore da banco, cominciamo da circa 12 volt, uso sempre il PS305D che se è già rotto due volte e se vi interessa il videoriparazione sono il 174 e il 505. Lo dico perché generando delle potenziali scariche potrebbe essere che non indietro sui cavi di alimentazione e guastano l'alimentatore ma nel mio caso si rompe sempre l'operazionale l'LM324 e quindi non ci sono problemi lo alimenterò in questa maniera. Ho attaccato il cavetto, adesso attacchiamo il polo negativo, diamo tensione, non accade niente nel senso che il led non si accende e se appoggio un led sopra tantomeno non si riesce ad accendere. Forse è una tensione troppo bassa in ingresso e tramite una sonda chiusa in cortocircuito vado a misurare la frequenza di oscillazione e quindi l'appoggio semplicemente qui sopra. Praticamente non ho assorbimento di corrente e non ho niente. Proviamo ad alzare un po' la tensione per vedere se si innesca l'oscillazione. Eccola, ecco sta oscillando quindi qua sono a 20 volt ed in effetti abbiamo che la bobina è in oscillazione però con un livello molto basso perché qua sto captando con la sonda, 100 millivolt e abbiamo tre quadretti. Frequenza rilevata 2.92 MHz quindi simile a quella che avevamo visto nel mio prototipo e però mi sembra un livello molto basso. Porto l'alimentatore al massimo 32.5 volt e inneschiamo l'oscillazione di colpo. Il livello è aumentato, abbiamo infatti sempre 2.94 MHz circa e un RMS di 420 millivolt, ancora troppo poco. Difatti in queste condizioni vedete il led è ancora spento e se metto ovviamente un led qua appoggiato non succede nulla. Aumentiamo la tensione in ingresso, tanto non abbiamo elementi che la limitano. Infatti non ho montato il condensatore da un micro che probabilmente avrebbe avuto una tensione di lavoro più bassa. Quindi alimento con questo alimentatore duale, 35 volt su due canali, li metto in serie con questo cavetto quindi meno con più e vado a prelevare la tensione ai due estremi. Vediamo cosa accade. Ho cambiato la risoluzione verticale dell'oscilloscopio, 500 millivolt di visione, andiamo a inserire l'alimentazione. Ovviamente il segnale è più alto come atteso, adesso lo triggeriamo un pochino meglio, possiamo stopparlo. 2.89 MHz, sempre lì, l'RMS è aumentato, un volt RMS ma è ancora molto basso. In queste condizioni la corrente assorbita è di 20 mA, quindi bassa corrente, alta frequenza ma non riusciamo ancora a produrre un campo sufficiente né per eliminare delle piccole giunzioni ma neanche per fare minime scariche. Vi dirò che siamo ritornati come valori a valori molto simili a quelli che avevo provato col mio prototipo. Infatti se vi ricordate con la sonda captata arrivavamo più o meno a questi valori di frequenza e ampiezza captata. Questo è un progetto libero, non c'è nessuna garanzia che funzioni e secondo me così con questo setup io ho provato questo transistor non può funzionare. O meglio, il circuito è pensato per oscillare e lo abbiamo visto ma i livelli sono assolutamente insufficienti. Ora per proseguire quindi sarebbe interessante magari provare qualche altro transistor, magari le cose possono cambiare. Voglio fare delle prove con altri transistor per cui tiro fuori i tre terminali di base collettore emettitore e quindi potrò saldare qui un componente. Questi collegamenti non devono essere troppo lunghi ma anche abbastanza lunghi per poter gestire il componente anche con geometria diversa. Ad esempio vorrei cominciare con un 2N3055 glorioso che è uno dei transistor che è stato citato dagli autori come migliore alternativa per il funzionamento del circuito. Ecco lo storico NPN2N3055. Per assegnare i pin di base emettitore possiamo guardare il datasheet oppure sappiamo che il collettore è comunque collegato alla carcassa metallica di questo package TO3. Per identificare base emettitore semplicemente mettiamo il multimetro in modalità prova diodo e andiamo a vedere dove si sente la giunzione. quindi qua no e quindi eccola qua. Quindi il terminale con l'anodo è la base, questo qui. Ecco il solito setup quindi con il nostro 2N3055 collegato, spira in corto, andiamo a vedere cosa accade. Partiamo da una tensione di 12 volt, assorbimento più elevato è 110mA ma nessuna oscillazione. Proviamo ad alimentare a 24 volt, corrente aumentata, ancora nessuna oscillazione. Secondo me siamo di fronte a una fake news perché il 2N3055, adesso qua ho il datasheet della ON semiconductor, è un transistor che non è che sia velocissimo. Andiamo a vedere le caratteristiche dinamiche, eccole qua. Infatti vedete che l'FT è minimo 0.8 MHz fino a 2.2 massimo. Quindi secondo me questo transistor è troppo lento. È stato pensato per portare corrente ma non per switchare a frequenze così elevate come servono a noi, cioè dell'ordine dei MHz. Voglio aumentare il numero di spira al secondario, quindi potrei utilizzare un altro circuito stampato da mettere in serie, quindi questa bobina di secondario la mettiamo in serie a questa. Dobbiamo fare in modo ovviamente di tenere lo stesso verso di avvolgimento e i cavi il più corto possibile. Allora ho saldato questo filo sulla bobina al piano basso, qua proprio in bocca a Tesla, infatti vedete che la pad arriva proprio qui, e da qua andrò a collegarmi all'inizio avvolgimento della seconda bobina. Ho appoggiato quindi il secondo circuito stampato sopra il primo, qua con le torrette, e ho collegato la fine avvolgimento di uno con l'inizio avvolgimento dell'altro, e questo sarà il fine avvolgimento complessivo. Ora mi aspetto che la frequenza scenda decisamente perché abbiamo caricato molto la parte induttiva, infatti abbiamo il doppio di spira, ne abbiamo 320, vediamo a che frequenza uscilla. Alimento con 24 volt, appoggio la sonda, 1 MHz E3, comunque il segnale è bassissimo, non riesce sicuramente a creare un campo elettrico che permetta le scariche. Qui abbiamo poco più di 60 millivolt RMS. Inoltre abbiamo una corrente assorbita praticamente così piccola che non riesce neanche essere rilevata dall'alimentatore. Facciamo una prova col transistor BD911 che è il BJT utilizzato in questo modello mini tesla coil. Ho saldato il transistor, qua con queste prolunghe, diamo tensione a 12 volt. Attenzione, il led si è acceso, quindi qua il campo elettrico dovrebbe essere decisamente più elevato. L'assorbimento a 12 volt è circa 10 mA. Avviciniamo come prima la sonda dell'oscilloscopio. La cosa interessante è che se avvicino la sonda al piatto la luminosità del led aumenta. Rispetto alle misure fatte prima, vedete che con 12 volt di alimentazione abbiamo una frequenza di 2.38 MHz, ma questa volta il livello è decisamente più elevato. Abbiamo 2.6 volt RMS. Alimento con 32.5 volt, il massimo previsto è dichiarato 35 volt. L'assorbimento è di 150 mA. Il led è decisamente acceso con più intensità. E la tensione captata dalla sonda in cortocircuito è di ben 9 volt RMS, sempre alla frequenza leggermente superiore a 2.51 MHz. In queste condizioni, se avvicino un tubo a gas, come un tubo a neon, ad esempio, vedete che riesce a illuminarlo senza problemi. Quindi il campo elettrico questa volta è interessante. Quando avvicino il tubo al piatto, anche l'assorbimento in corrente aumenta leggermente. L'appoggio dei led sul piatto, diamo tensione, vedrete che si innesca un piccolo arco elettrico. Attenzione perché poi quest'arco, se scarica in questo caso su questa zona, potrebbe rovinare il solder mask. Facciamo un test con un singolo led, mi avvicino al centro. Vedete che si innesca un piccolo arco elettrico e il led si accende. Ecco, vedete che lo posso tirare su piano piano. Quindi la nostra bobina effettivamente sta funzionando. Viene la tentazione di appoggiare un po' di led sopra questo piatto e dare tensione. Qualcuno si accende, qualcuno no. Bisogna stare sempre attenti appunto che non avvengano scariche per non rischiare appunto di danneggiare il solder. Dopo un po' di prove il transistor ovviamente si è scaldato. Arriva a circa 55-60 gradi, quindi direi ancora accettabile. Viene da chiedersi cosa ha di tanto speciale questo transistor BD911 che permette l'innesco dell'oscillazione, mentre un transistor che sembrava similare non lo fa. Andando a guardare bene i parametri, in realtà si nota che il guadagno è abbastanza elevato, perché è circa di 200. Vedete che il guadagno, il minimo è 40-250, però dalle curve che si vedono, l'HFE, qua si lavora anche con correnti elevate nella zona 200. Inoltre l'altra cosa fondamentale è che è un transistor veloce, e lo si vede da questa curva che mostra la transition frequency, eccola qua, questa qua, rispetto alla corrente di collettore. A un Ampere di corrente di collettore, qua abbiamo 5 MHz come prodotto banda guadagno unitario. Ho sostituito il transistor anche nella mia vecchia bobina prototipo, pilotata da questo circuitino, quindi il BD911, prendo un LED e ovviamente anche la bobina artigianale è in grado di eccitare a questo punto tubi a gas. Bene, e con questo termina la seconda puntata sulla bobina di testa a planare sul circuito stampato. Come sempre se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, un bel pollice in su, io vi saluto, ciao e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!